1. Crea un nuovo progetto ed accedi alla progettazione dell'impianto BIM. 2. Disegni l'area di posa, con l'oggetto superficie inclinata. 3. Nell'editor della superficie inclinata, ne caratterizzi la pendenza. 4. Nell'editor della superficie inclinata. Posizioni il campo fotovoltaico, e progetti l'impianto. Selezioni il modulo con ausilio del wizard dedicato. L'inverter lo scegli, tra quelli compatibili con l'utilizzo dell'apposito wizard. Riporti il quadro generale con la presenza dei sottoquadri, in AC ed IC. Evidenzi i moduli connessi ai singoli quadri, DC, AC e inverter. Selezioni il quadro generale, e visualizzi i dettagli del singolo quadro, e dell'intero impianto. Salvi e procedi con la stima economica. Grazie 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 Grazie